Salve a tutti quanti ragazzi e ragazzi, qui è Panino e la Spina che vi parla Oggi siamo con la seconda parte di Horror Hospital 2 Se non avete ancora visto la prima parte, vabbè, lo trovate nei video addietro, no? Di quelli che avevo fatto Direi che possiamo subito cominciare, va? Ci sono ritrovati qua, no? Dopo aver trovato una chiave Siamo qua nelle scale, voglio vedere cosa c'è sopra Ah, ancora? Ecco, poi c'è stato qua che mi rincorre, mi assale, mi fa che... Eh, no, mi sa che non posso passare perché quest'uomo non è in grado di salire quattro scatole, no? Ma mi sembra giusto Andiamo sotto, va? Signorina Signorina, non piangere Oddio, no! Ma io volevo aiutarla Volevo darle una mano Oh, non vuoi una mano? Allora sono problemi tuoi, stai lì a piangere Che cacchio ti cerca? Statene là L'importante è che però non mi rincorri Oddio Quello è il tipo di prima Speriamo che non mi veda Qui c'è qualcosa Se c'è lui sicuramente c'è qualcosa in questa stanza Di là c'è la tipa che piange Qui c'è questo tipo che mangia Direi che non c'è niente qua Così a prima vista Ma è che va da ritorno, va? Io sto lontano da sto tipo meglio, eh Che non so che cosa stia mangiando Andiamo, va Questa porta c'è qualcosa? Eh, ok Eh, che palle Eh, vattene a quel paese, oh Ci provi a spaventarmi, eh Ci provi Ma non ci riesci, non ci riesci Qua c'è qualcosa? No Qua c'è un armadio Non so se si possono aprire gli armadi Non credo proprio Vabbè, andiamo avanti, va Questa stanza la trovo abbastanza inutile Qua Ancora Ma, allora Pare ad aprir bene le porte, va? Eh, che cavolo Ma che forza hai quella di Hulk Che lanci così le cose? Qua c'è un gabinetto Tra l'altro Sto piano a quanto inquietante Sembra tipo come se Come se fossero delle prigioni Ecco, sì, mi è venuto il termine qua Ma, ma Questa è la stanza dei pazzi Oddio Ah, le orecchie Vi consiglio di abbassare il volume in questa parte Ah, è finito Sì, ma almeno posso uscire adesso Però posso aprire la porta Vabbè, io non ho capito Qua c'è qualcosa Non si può aprire la porta Oddio Però a te o me era sembrato di aver visto la tipa arrivare da me Andiamo qui, va? Andiamo cosa c'è È ancora che ti Apri male le porte Un letto Oh, c'è qualcosa qua Ah, mi ho preso i file Quelli non sono niente Vabbè Andiamo via Credo siano file Perché C'è una cartella lì Vabbè, andiamocelo Si era messo in pausa Abbasso un po' il volume, va? Ecco qua Sì, più che altro per voi Ciao, ciao ospedale Ci vediamo un'altra volta Via Già la tipa è pronta sulla moto Sì, ma il casco Non te lo metti il casco Eh Poi se cadiamo Ti fai male Altro che horror hospital Qui ti mandiamo in ospedale veramente To be continued Quindi ci sarà Una continuazione Finisce così No, vabbè Qui dice che continuerà E io sarò pronto A farci il video sopra Al possibile sequel Bene ragazzi Finisce qua Anche questo horror hospital Che si è diviso in due parti Però va bene Forse è la pena Mi aspettavo anche qui Qualcosina di più No, perché ho visto la grafica La scena Finalmente qui c'erano dei nemici Che potevi morire A differenza del primo horror hospital Però vabbè Dai Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per vedere altri video Tipo horror E ci vediamo in un prossimo video Come sempre Vi auguro una buona giornata Una buona giornata E una buona notte Ciao a tutti